e cosa alessia si è appena sentita con marco domani è un esame importante e si è dimenticato di san valentino beh vedrai che fritto misto alla veneziana e chardonnay dell'alto adige le solleveranno al morale che esame ha marco domani un diritto tributario e ti stupisci che si sia dimenticato vado io cos'è? ti sa con una mano? no no è leggerissimo è per me non so cosa sia non c'è dentro niente è uno scherzo che cos'è? un anello non si era dimenticato? buon san valentino a tutte e due non